Buonasera a tutte e a tutti. Oggi insieme a Lampia intendiamo dedicare questo nostro momento di approfondimento a una figura di donna molto importante nella vita della costruzione del nostro Stato democratico. Questa donna si chiama Teresa Noce. Oggi pomeriggio insieme a me che sono dell'AMPI di Roma ci sarà Davide Conti storico e anche componente del direttivo dell'AMPI. Cercheremo di posare la nostra attenzione su tutta la vita di Teresa Noce e quindi io farò un escursus su quella che è stata la sua biografia diciamo fino al momento in cui è entrata nella Costituente, quello che ha fatto nella Costituente e poi Davide farà un approfondimento su un tema molto particolare che è legato proprio a questa settimana della memoria che è il doppio internamento che la Teresa Noce come tanti altri compagni deportati politici hanno subito in quel periodo storico. Quindi inizio dicendovi che Teresa Noce nasce in quel di Torino nel Novecento da una famiglia estremamente povera, anzi del padre non si hanno praticamente notizie e da piccolissima deve guadagnare. Lei va a scuola, tra l'altro ha una orribile malattia dovuta alla povertà che è la tigna, la miseria e quindi viene evitata delle compagne nelle elementari, viene messa all'ultimo banco e non sapeva, sembrava che la bambina non capisse, non sapesse rispondere alle aspettative diciamo della maestra, invece in pochissimo tempo con una volontà incredibile dimostra di essere capace di un grande apprendimento e di lì a breve nel corso dell'anno scolastico dall'ultimo banco finirà proprio nel primo banco e avrà però sempre in sé la consapevolezza di essere diversa dalle altre compagne di classe. Soprattutto quando prende il diploma delle elementari capisce che per lei sarà impossibile continuare lo studio a cui voleva veramente dedicarsi perché la mamma non riusciva a mandare avanti la famiglia e quindi accetta di fare delle consegne per un fornaio. Lo faceva già nell'epoca in cui andava a scuola il pomeriggio dedicando due ore della sua giornata a questo compito per portare dei soldi a casa e lo farà da bimba di 11-12 anni. Quindi farà la sartina ma avendo un carattere estremamente ribelle non si trova facilmente a suo agio nei posti di lavoro in cui viene a trovarsi e lavorerà anche in fabbrica e partecipare a tutte le lotte del proletariato in primissima fila. Lei giovanissima si iscrive al Partito Socialista di Torino però partecipa alla svolta di Livorno e quindi si iscrive al Partito Comunista. Incontra a Milano un giovane ingegnere di cui si innamora. Questo ingegnere è Luigi Longo, suo futuro marito. Il loro è un amore che nasce in mezzo alle lotte operaie, in mezzo alle tante situazioni che devono affrontare nel Partito Comunista e si trova giovanissima incinta. In quell'epoca per sposarsi c'era bisogno dell'autorizzazione dei genitori, delle famiglie. La famiglia di Luigi Longo, lei aveva meno di 25 anni, non la accetta. Dice che il figlio, per cui avevano sacrificato una vita e che doveva diventare un brillante ingegnere, non poteva sposare una donna brutta, povera e comunista. In realtà, al compimento dell'età fatidica si sposerà con Longo, da cui avrà oltre il primo figlio anche altri due figli. Il secondo morirà per una meningite piccolissimo. Teresa Noceviene, si segnala subito all'interno del Partito Comunista, a livello italiano ma anche a livello internazionale. Nel 1926 è spatria con il marito in Unione Sovietica, il marito doveva rappresentare i comunisti italiani presso l'internazionale e lei viene mandata nel 28 a frequentare la scuola per i quadri del Cominterm e vi rimane per circa un anno. Poi si regherà a Parigi, dove fa parte di un gruppo ristretto di quadri comunisti che sono in clandestinità e e lì vedremo con Davide successivamente quali saranno i guardi che lei passerà, perché questa donna è stata clandestina in Francia, ha partecipato alla guerra di Spagna, ha vissuto a Mosca per periodi incredibili e praticamente è tornata dopo periodi di internamento, il primo in Francia a Recrua e l'altro a Ravensbrück, nel campo di Ravensbrück, tornerà in Italia nel nel 44, alla fine nel nel 45 scusatemi. Immediatamente ottenuta la libertà lei riprenderà la sua vita politica nel partito, tra l'altro lei non aveva mai svolto una vera e propria vita politica del partito in Italia perché tutta la sua vita si è svolta in clandestinità e correndo da uno stato all'altro. Tra l'altro è stata utilizzata per moltissime occasioni come fenicottero, i fenicotteri erano per il partito comunista quelle donne che portavano da un paese all'altro, da una nazione all'altra con grande rischio e pericolo messaggi nei doppi fondi delle loro valigie o armi. Quindi un lavoro pericolosissimo a cui lei non si è mai sottratta. Nel 45 comunque rientrata in Italia, il membro diventa membro della componente della consulta nazionale e si occupa della commissione affari politici ed amministrativi e soprattutto con il voto del 2 giugno del 46 quando si votò per la prima volta le donne votarono e furono elette, eletti i componenti dell'assemblea costituente, Teresa viene eletta tra le 21 donne su 556 componenti dell'assemblea e Teresa farà parte della commissione dei 75 che è la commissione quella che praticamente ha scritto la carta costituzionale e soprattutto Teresa parteciperà ai lavori della terza sottocommissione quella che si occupa dei doveri e dei diritti economici e sociali e quindi lei si occuperà da subito dentro la costituente degli interventi per garantire garanzie economiche e sociali alla famiglia. La famiglia usciva dal ventennio fascista e massacrata nel senso che le famiglie italiane avevano conosciuto la morte di tanti padri di famiglia ma anche nelle città bombardate erano state decimate intere famiglie, uomini, donne, bambini, anziani e c'era una grande miseria materiale ma anche una grande miseria morale e Teresa non usce come le altre donne del costituente erano fortemente consapevoli della grande responsabilità che avevano sulle spalle e il fatto che avessero assegnato loro nella costituente essenzialmente il lavoro che ruotava intorno ai temi della famiglia e della scuola considerandolo quasi dalla parte dei padri costituenti una cosa naturalmente attinente a loro essere donne loro lo accettarono e Teresa soprattutto che era convinta che bisognava considerare la maternità non soltanto una funzione naturale della donna ma anche una funzione sociale della maternità si batte da subito intanto perché lo Stato sia obbligato a intervenire a favore di tutti i bambini, figli legittimi e figli illegittimi e garantire alle madri lavoratrici la possibilità di lavorare in un ambiente sano che non compromettesse la salute loro e del loro bambino. Questi temi saranno sempre chiari nella testa di Teresa e interviene anche sul diritto al lavoro e l'assistenza proprio in due sedute dell'assemblea il 9 e l'11 di settembre del 46 e qui lei sottolinea anche il fatto che bisogna dare un'opportunità a tutti rispetto alla previdenza perché ci sono tantissime donne casalinghe che non possono esercitare alcun diritto e alle quali non potendo dare la pensione bisogna che lo Stato sinistra una sistema adeguata. È un lavoro il suo preciso che svolge nella commissione e rimane chiaro che per lei il punto fondamentale era quello espresso dall'articolo 3 quando aveva con forza insieme a Lina Merlin chiesto che fosse inserita che il principio di uguaglianza doveva riguardare innanzitutto il sesso perché fino a quel momento le donne in Italia non erano state cittadine con pari dignità degli uomini. Lo stesso diritto di voto era un voto considerato universale ma universale voleva dire maschile perché solamente gli uomini avevano il diritto di voto le donne non lo avevano mai avuto solamente con le amministrative del 46 e poi appunto con il voto del 2 giugno conquistarono a pieno titolo il diritto di voto e quindi di cittadinanza la possibilità di essere elettrici e di essere e di essere elette. Quindi lei nel momento in cui parla di famiglia dice, queste sono le sue parole proprio di quel giorno, che oltre che una funzione naturale della donna, la maternità, oltre a una missione umana è anche una funzione sociale perché su di essa si basa la famiglia, pernio della società perché essa crea le nuove generazioni avvenite dell'Italia. Il pupo rosso e paffuto o la creaturina pallida ed anemica non sono soltanto la croce e la delizia della loro mamma, sono i lavoratori di domani, sono l'avvenire della patria. E quindi queste cose che Teresa dice con grande vigore si trovano poi realizzate negli articoli 29, 30 e 31, che sono proprio gli articoli della maternità, dei diritti e dei doveri che lo Stato ha anche di intervenire laddove le famiglie sono numerose e i genitori non riescono a fornire adeguata educazione e il necessario per la sussistenza ai loro figli, lo Stato deve intervenire per far superare qualsiasi ostacolo che questi ragazzi abbiano per poter andare a scuola o per poter avere una vita decente. Anche rispetto al matrimonio e alle convivenze nel nucleo familiare, le donne, soprattutto le comuniste, capiscono che sarebbe stato importante cominciare a ragionare di divorzio. Riescono a far sì che non ci sia nella Costituzione l'indissolubità del matrimonio e rimandano quindi la discussione sull'eventuale divorzio poi al codice civile, ma loro sono ben consapevoli che sia uno strumento estremamente importante, soprattutto perché già da allora erano consapevoli di quanto le donne potessero soffrire in situazioni familiari anomale in cui i mariti, i compagni molto spesso avevano anche altre situazioni familiari poco chiare su cui era difficile poter intervenire. E lei stessa fu una donna che soffrì particolarmente per questa situazione perché si ritrovò nel 53 dopo essersi separata da Luigi Longo ormai da alcuni anni leggendo un articolo sul Corriere della Sera apprese che il suo matrimonio con Luigi Longo era stato annullato. In realtà l'annullamento era stato chiesto dal marito a sua insaputa e questa cosa su cui Teresa con grande emotività e con grande forza scrisse una lettera dismentita appunto proprio al Corriere della Sera le rese difficile poi i suoi rapporti con il partito in cui aveva militato fin da giovanissima e quindi fino al 58 sarà comunque eletta in Parlamento e riuscirà nel 50 a portare avanti una proposta di legge sulla maternità su cui aveva cominciato proprio a lavorare nella costituente quindi la protezione della lavoratrice e della lavoratrice madre. Aveva insieme alle altre donne soprattutto a Maria Federici, ad Angelina Medlin a far sì che nell'articolo 37 fosse perché lei ha fatto anche la sindacalista ha fatto il primo contratto delle lavoratrici tessili quindi poi in CGL ha avuto una storia anche lì molto particolare molto densa di avvenimenti e di conquiste importanti per le lavoratrici e per i lavoratori di mettere che a parità di mansioni la retribuzione doveva essere una retribuzione uguale per uomo e per la donna l'articolo 37. Di Teresa mi piace anche ricordare un'altra cosa che si sa poco di lei e delle altre costituenti proprio perché quell'Italia di quegli anni mentre loro scrivevano la Costituzione era un'Italia tutta da ricostruire ma devastata dai bombardamenti. A lei insieme venne, che era vissuta a Milano per tanto tempo, venne l'idea di, conoscendo la realtà di tanti bambini abbandonati senza più famiglia e in condizioni fisiche disastrose e psichiche, di organizzare il primo viaggio verso l'Emilia Romagna per questi bambini per far trovare loro per un periodo una casa in campagna dove venissero accolti e dove venissero rifocillati nel corpo e nella mente e venissero ridate la loro salute. Questa cosa trovò, come si dice, non trovò entusiasmo da parte di tutti e lei doveva operare con grande forza mettendosi in contatto con i compagni e le compagne dell'Emilia Romagna dove lei era stata peraltro eletta proprio alla Costituente in uno dei collegi dell'Emilia Romagna e entusiasticamente accolgono la sua idea ma hanno paura di non riuscire ad accogliere i bambini tant'è vero che la compagna di cui adesso mi sfugge il nome che le scrive le dice Teresa sì siamo riusciti a trovare una soluzione ma solo per duemila bambini Teresa Noce le risponde entusiasta che non avrebbe mai pensato possibile che addirittura si poteva ragionare su come aiutare duemila bambini che erano in grande difficoltà quindi il primo treno del sole o della felicità come vogliamo chiamarlo pieno di bambini che vanno portati via dalle miserie materiali e morali della guerra e vengono portati appunto in queste case dei contadini e dei operai dell'Emilia Romagna che si offrono volontari di ospitarli per un periodo più o meno lungo avviene da Milano mentre più notoriamente sappiamo che questa cosa la si racconta per quello che riguarda il sud d'Italia soprattutto per tutti quelli che provengono dal Cassinate e lì su quei treni della felicità lì la Teresa Noce lavorò insieme a Maria Maddalena Rossi e a Nadia Gallico Spano perché furono organizzati anche da lì per l'Emilia Romagna in alcuni casi anche per il Veneto questi treni della felicità quindi Teresa è una figura forte è una figura la chiamavano Madonna Tempesta perché lei quello che aveva in testa e quello che aveva nella lingua lo diceva lei in una riunione a Mosca rispose a Lenin criticando quello che diceva dicendo che non si trovava d'accordo quindi è una persona, un personaggio veramente unico nella storia diciamo anche di un'Italia che noi abbiamo conosciuto dai libri di scuola in una situazione in cui anche le donne e gli uomini del Partito Comunista sembravano rispondere sempre a delle logiche diciamo di partito Teresa era uno spirito assolutamente assolutamente indipendente assolutamente libero anche durante la Costituente sull'articolo 7 che recepiva i patti lateranensi Teresa si disse contraria andò da Togliatti, gli espresse la sua contrarietà e Togliatti si guardò bene dall'imporre qualche cosa a Teresa e Teresa quel giorno in aula si astenne rispetto a questo che lei riteneva un errore incredibile che si stesse compiendo quindi mi piace oggi poterla ricordare perché è una donna che veramente ha sperimentato su di sé il bene e il male della guerra, della politica e anche nella sua vita privata ha avuto delle grandissime sofferenze ma è una donna che ha avuto un amore straordinario per i suoi figli e per i bambini, infatti lei scrisse una favola sulla cagnetta laica, la prima cagnetta che è andata sulla luna e poi anche negli ultimi anni della sua vita ha scritto delle favole per bambini e si è battuta sempre per l'infanzia abbandonata e per i diritti delle donne alle donne diceva sempre che dovevano imparare a dire no che è la cosa più difficile da farsi soprattutto quando ci sono dei contesti in cui l'amore e l'amicizia si mescolano anche alla vita politica, alla vita di un partito e Teresa quindi Madonna Tempesta mi piace veramente raccontarla come una figura luminosa di donna su cui scarsamente a oggi si è raccontato e mi fa piacere che Davide, che è uno storico appassionato cioè che perlomeno desta in noi la passione quando leggiamo le cose che scrive o lo sentiamo, ci racconti questa parte della vita di Teresa collegandola al contesto europeo di una Teresa che in quegli anni si è mossa in una maniera incredibile e che ha dovuto affrontare le prigioni francesi e i campi di concentramento tedeschi quindi io adesso do la parola a Davide per questa parte buonasera a tutti grazie Marina, grazie, buonasera grazie per l'introduzione molto efficace del tuo intervento rispetto a una figura che rappresenta in qualche maniera un punto di osservazione essenziale per la ricomposizione di vari aspetti della pluralità di conflitti, ricomposizioni, costruzioni, costituenti che definiscono gli anni che percorrono, diciamo così, l'arco storico che va dalla fine della prima guerra mondiale alla fine della seconda guerra mondiale quindi alla ricostruzione definitiva del continente europeo e alla ricomposizione di un equilibrio internazionale diverso dal precedente Teresa Noce rappresenta in questo senso un punto d'osservazione perché sintetizza dentro la sua biografia elementi che connessi tra loro esprimono con grande efficacia la significanza di queste istanze della storia di questi moti della storia dentro la sua biografia si ritrovano esperienze componenti di vita politica vissuta che in qualche maniera costruiscono un paradigma valoriale molto definito nel suo perimetro ma assolutamente largo ed inclusivo nella sua forma e dunque Teresa Noce che fugge dall'Italia nel 1926 col marito per organizzare la resistenza antifascista al regime di Mussolini fuggi all'estero tra Parigi e Mosca per organizzare questa resistenza in Italia il Partito Comunista è l'unico partito antifascista che mantiene nel paese anche durante il ventennio una struttura clandestina in grado di attivare e organizzare piccole microcellule sempre più in difficoltà visto la forza della repressione degli apparati dello Stato fascista ma sempre presente nel corso del ventennio mussoliniano questo tipo di rete questo tipo di esperienza è resa possibile da donne e uomini come Teresa Noce come Luigi Longo figure che si definiscono esplicitamente come rivoluzionari di professione laddove oggi la professionalità della politica sembra quasi un elemento di demerito nei confronti della direzione della cosa pubblica ecco nel fuoco dell'avvento della società totalitaria nazifascista e nel fuoco della guerra che questa società condurrà fino alle estreme conseguenze figure come quella di Teresa Noce diventano quindi un riferimento non solo biografico non solo politico ma soprattutto composto dentro una misura costituente che troverà il suo naturale approdo nell'assemblea eletta il 2 giugno del 1946 nel nostro paese internata due volte diceva Marina nel suo intervento internata due volte da due stati molto diversi che all'interno del conflitto della seconda guerra mondiale si combattono su due fronti opposti incarcerata in Francia internata e deportata a Raversbrook in Germania pur da fronti opposti Teresa Noce diventa in quei contesti espressione d'elemento del conflitto cioè della non compatibilità tra un ordine nuovo nascente ed un ordine che pur nel fuoco della guerra volge al termine sta morendo e dunque la sua parabola biografica di nuovo ricompone in una linea ideale la persecuzione politica che fa capo non solo alla società categoriale fascista cioè divisa in categorie da perseguire e discriminare per legge da parte fascista in relazione all'appartenenza religiosa al genere all'opinione politica ma anche fuori dalla società categoriale fascista quel tipo di persecuzione delle idee che si ritrova anche in un contesto a democrazia occidentale liberale qual è quello della Francia del periodo degli anni 40 e dunque l'internamento e la carcerazione in Germania e Francia diventano lo specchio del grande moto della storia che modifica gli equilibri fino a quel momento assestati e assestanti nelle società moderne lo fa perché c'è un ingresso nuovo di un nuovo soggetto di cui Teresa Noce si fa portatrice espressione è l'ingresso dentro la società politica dentro la sfera pubblica di un nuovo soggetto le masse popolari il proletariato industriale le masse contadine e al suo interno soggetto nel soggetto motore della storia nel motore della storia le donne e dunque una soggettività nuova che consente un rinnovamento anche delle strutture di lotta clandestine e poi non più clandestine con la fine della guerra che hanno necessità di essere rinnovate dal punto di vista politico culturale sociale di costume i partiti che offrono lo spazio per la guerra antifascista in Italia e in Europa non sono partiti compiuti necessitano di un elemento aggiuntivo che la storia della seconda guerra mondiale offre come possibilità offre come accesso ad un equilibrio nuovo e in questo l'ingresso delle donne e in particolare delle dirigenti come Teresa Noce rappresenta un elemento defagrante anche dentro gli stessi partiti antifascisti che rappresentano la leva di rinnovamento di ricostruzione costituente di ricomposizione della società dopo le devastazioni della guerra e dunque se la doppia deportazione rappresenta l'elemento internazionale internazionalista e tutto squisitamente politico che Teresa Noce in qualche maniera racchiude dentro la sua esperienza la sua identità di genere assume un valore ancora più importante e incidente perché muove da quella identità per rinnovare le strutture stesse dei partiti antifascisti e del loro lavoro costituente dentro la ricostruzione della società nuova due volte viene liberata per mano sovietica viene rilasciata in Francia su pressione della diplomazia di Mosca perché lo abbiamo detto all'inizio Teresa Noce è una rivoluzionaria di professione così si chiama uno dei suoi più bei testi scritti appunto rivoluzionaria professionale e dunque da Mosca arrivano pressioni all'alleato francese per liberare scarcerare una dirigente antifascista europea il cui contributo è fondamentale e sarà fondamentale nella lotta al nazifascismo e nella costruzione degli equilibri politici postbellici a Ravensbruck i sovietici i russi la liberano materialmente attraverso l'avanzata militare dell'armata rossa che libera l'Europa e quindi congiunge l'elemento politico che appare e si manifesta con la scarcerazione in Francia con l'elemento militare della guerra combattuta con le armi che quindi dispone un nuovo equilibrio della forza dentro questi elementi la soggettività di una dirigente come la noce ci consente di inquadrare altri due grandi macro temi altre due dimensioni generali complessive che partono dal punto d'osservazione della sua biografia personale e aprono uno spaccato sul nostro sviluppo storico sullo sviluppo storico delle nostre società e delle nostre democrazie da un lato la dimensione della guerra totale Claudio Pavone il più grande storico della resistenza inquadra quel movimento come una guerra che riassume e sintetizza tre guerre nel suo corpo una guerra di liberazione nazionale è la resistenza ovvero la cacciata degli eserciti invasori stranieri dal territorio è una guerra civile che oppone europei antifascisti ad europei fascisti e allo stesso tempo con l'ingresso di soggetti nuovi le classi subalterne le donne diventa anche una guerra di classe cioè di europei che hanno subito e patito l'ingresso nella storia dei regimi dittatoriali tedesco e italiano e che avendo patito questa fase della storia in una posizione non solo subalterna ma di oppressione morale fisica politica sociale diventano elementi e soggetti che utilizzano la leva di forza come leva di emancipazione sociale individuale e collettiva tre guerre in una guerra di più dentro la guerra totale si definisce il destino d'europa non è un caso che l'idea stessa della dimensione sovranazionale della cooperazione tra gli stati nasca nel confino di Ventotene in Italia in un confino fascista col manifesto scritto da Tiero Spinelli Ernesto Rossi e Eugenio Colorni che appunto inquadrano dal buio del confino fascista inquadrano e definiscono un progetto di largo respiro internazionale e sovranazionale e chi meglio di figure come Teresa Noce rappresenta e significa la misura la cifra internazionale della battaglia antifascista nel corso non solo della seconda guerra mondiale ma anche nel corso della resistenza politica pagata anche con la prigionia da parte delle militanti e dei militanti dei quadri e dei dirigenti dei partiti antifascisti e dunque il rovesciamento della società categoriale che trova la sua espressione massima nella costituzione repubblicana richiama esattamente i termini dell'intervento di Marina Pierlorenzi prima di me quando indicando nel lavoro costituente il punto qualificante e qualificato della politica non solo di Teresa Noce ma del gruppo di 21 madri costituenti dentro l'assemblea ecco lì possiamo evidenziare il salto qualitativo che si definisce attorno al lavoro delle costituenti e dei costituenti pensiamo al decennio 1938 1948 nel 1938 dentro il parlamento italiano il governo italiano il governo fascista italiano promulga le leggi razziali il primo gennaio del 1948 nello stesso paese nelle stesse aule parlamentari si discute e si approva viene promulgata la costituzione repubblicana sono passati appena dieci anni ed è cambiato tutto il paradigma della costruzione della società complessa è completamente modificato si passa dalla società monodimensionale ad una dimensione dei regimi fascista e nazista in cui c'è un solo modo di studiare un solo modo di lavorare un solo modo di vivere le relazioni tra gli esseri umani di vivere i rapporti sociali ad una società in cui si è liberi di scegliere cosa diventare cosa di venire come vivere dentro un perimetro plurale la costruzione di questo perimetro plurale cammina sulle gambe di donne e uomini come Teresa Noce e dunque studiare la sua figura non è esclusivamente esercizio della storia ci consente attraverso la sua osservazione di capire perché siamo potuti evolvere dalla barbarie dal medioevo della guerra nazifascista ad una società democratica ad una repubblica democratica in cui i diritti finalmente anche dal punto di vista formale e poi sostanziale devono essere patrimonio comune e plurale delle società ma quei diritti quelle conquiste dicevamo camminano sulle gambe degli esseri umani delle donne e degli uomini che se ne fanno interpreti e dunque studiando la sua figura studiando la figura di Teresa Noce che oggi abbiamo scelto di ricordare in questi nostri interventi possiamo definire un un fatto della storia questo progresso questo moto che ci ha portato dal 1938 al 1948 a modificare strutturalmente il modo di intendere la vita e il giudizio su ciò che era prima e ciò che è stato dopo come ci insegna Shakespeare non viene tratto da un giudizio che viene dalle stelle ma viene dice il poeta tratto dai tuoi occhi ovvero dalle vite delle persone ed è attraverso lo sguardo rivolto agli occhi alla vita delle persone come Teresa Noce che possiamo capire la nostra radice d'origine e possiamo soprattutto definire la nostra possibilità di scelta per il futuro spero che possiamo concludere questo nostro intervento di oggi pomeriggio salutando tutte e tutti e ringraziandovi per la vostra partecipazione a questa nostra iniziativa e ringraziandovi a questa nostra e ringraziandovi iniziativa a questa nostra